Buonasera telespettatori, buonasera a tutti, siamo una nuova puntata dell'opinione di Oreste Giurlani, Viste dalla Montagna e anche oggi affronteremo tutta una serie di temi, temi che vengono fuori dalle nostre riflessioni, proprio perché dalla montagna vediamo quello che succede nel resto della regione e soprattutto quello che succede nel resto della nazione. Vorrei ricordare prima di iniziare che potete scriverci cari telespettatori, potete scriverci all'email segreteria.chiocciola.it, potete scrivere sulla pagina Facebook di Oreste Giurlani, la mia, oppure potete scrivere su Twitter a Chiocciola Giurlani, quindi chiunque di voi volesse sottolineare alcune questioni, fare osservazioni, anche critiche o anche individuare alcuni dei temi che dobbiamo affrontare ogni settimana, quindi ce lo dica perché noi siamo ben lieti di rispondere a tutto quello che ci scrivono i telespettatori. Vorrei cominciare intanto con alcuni temi che sono importanti, il primo sostanzialmente è quello legato al sistema del turismo, del turismo in montagna, purtroppo abbiamo avuto un inverno molto strano, come ho detto già l'altra volta, la neve non è venuta, c'è stato un periodo di pioggia, quindi di maltempo e questo ha creato problemi al settore turistico toscano, soprattutto con quello della montagna, ci sono state meno presenze, c'è stata una difficoltà da parte degli agriturismi, degli alberghi a avere gente durante questo periodo, abbiamo avuto il sistema neve e quindi il turismo bianco che è andato in estrema difficoltà, su cinque stazioni ce ne sono state sostanzialmente tre totalmente chiuse, due che hanno lavorato parzialmente proprio perché l'inverno non è venuto e quindi non c'erano addirittura le temperature per poter sparare la neve e quindi creare la possibilità a coloro che andavano a sciare di poter sciare in tranquillità, pensate che questo anno erano stati fatti investimenti, investimenti sulle piste da sci, sull'impianti e purtroppo è stata come si dice una situazione drammatica, la Regione siamo a noi aperti un tavolo, un tavolo di crisi perché ci sono occupati, ci sono quasi 700, 800 occupati diretti più tutto l'indotto e stiamo valutando quale interventi fare, anche di sostegno economico per ridare liquidità alle nostre imprese proprio per affrontare il tema di non far morire un sistema neve che è importante per l'economia della montagna, speriamo intanto che in questi ultimi scorci di stagione invernale la neve possa reggere, che possa arrivare anche in quelle località dove non è venuta e quindi che il sistema del turismo bianco toscano possa almeno chiudere in bellezza, trovate tutte le informazioni sulle stazioni in toscananeve.it e lo slogan che noi abbiamo sempre portato è sciare in montagna, sciare in montagna e sciare soprattutto in Toscana, quindi che è un valore aggiunto rispetto a altre zone. Altro tema importante di questi giorni è la delibera che ha fatto la Regione Toscana, un piano d'emergenza sulla questione dei lupi, dei cani randagi e quindi sui danni alle culture, alle imprese nelle zone montane dovute appunto dalla presenza di questi animali e soprattutto alla presenza anche degli ungulati in genere. Devo dire che per la prima volta la Regione Toscana ha fatto un piano coordinato da tre assessorati, quella la salute, quella l'agricoltura e quella l'ambiente e questo ha permesso forse per la prima volta di intervenire a sistema su questo problema, noi siamo fra quelli che vogliamo la tutela delle specie animali, però la vogliamo su un equilibrio di ecosistema, in Toscana stanno aumentando il numero dei lupi, si parla di quasi 400 esemplari che logicamente nel loro peregrinare lungo la Toscana stanno creando molte volte danni alle culture, danni alle imprese agricole, al bestiame etc. Quindi noi vogliamo che ci sia un intervento equilibrato, un intervento per poter evitare che questo si ripercuota, chi fa l'attività in montagna e nello stesso tempo dobbiamo puntare alla prevenzione, dobbiamo puntare al fatto che se ci sono stati dei danni come è successo in Maremma che è stato eclatante nei mesi scorsi, si possa risarcire coloro che hanno avuto danni, perché oggi un'impresa agricola che sta in montagna, che ha il bestiame, che fa pastorizia, che fa zotenia o che fa la multifunzionalità sono realtà importanti da salvaguardare, quindi bisogna salvaguardarle anche dai mutamenti dell'ecosistema che porta a volte a mutare l'equilibrio, noi su questo ci dobbiamo lavorare e devo dire che è importante che questa delibera abbia visto una dotazione di risorse pari a 5 milioni che la Regione mette subito in campo ed è una prima risposta un tema posto in questi mesi e che vedeva sicuramente problematicità, vedeva disagio e aveva visto anche in alcuni casi una tensione che meno male è stata subito assopita grazie all'intervento regionale. C'è un altro tema che è all'ordine del giorno e che noi lo vediamo proprio dalla montagna, è quello dell'organizzazione del 118, 118 intese come centrali dove si smista le telefonate e si dà il via all'attivazione dell'emergenza, noi dalla montagna lo viviamo un pochino di staccate perché noi centrali in montagna 118 non ce l'abbiamo, sono nei capoluoghi di provincia, in Toscana ce n'era 12, ora c'è un piano di riordino della Regione Toscana che dovrebbe prevederne 3, una per area vasta, questo sta creando fibrillazione, sta creando problemi perché poi come tutte le volte si rischia il pasticcio perché non si presenta un progetto organico, non si fa capire i vantaggi nella riduzione dei presidi delle centrali e quindi è logico che nascono i campanilismi, nascono l'interesse economici nei singoli casi, questo sta creando difficoltà, l'esempio procratante su Pistoia dove c'è una centrale operativa all'avanguardia, una delle meglio e che rischia la chiusura per andare a confluire su Firenze, penso che sia necessario invece continuare il confronto, fare un confronto vero con l'associazione di volontariato, con i soggetti interessati, con i comuni di riferimento, non solo quelli capoluogo perché riguardano tutti e arrivare alla fine a capire se veramente riducendo le centrali del 118 da 12 a 3 c'è dei risparmi e soprattutto capire se riducendo da 12 a 3 si possa avere dei vantaggi qualitativi perché il risparmio è relativo ma quello che conta è che il cittadino abbia un vantaggio e quando chiama al 118 ci sarà la possibilità di avere il miglior servizio nel più breve tempo possibile, è logico che noi dalla montagna vediamo anche il fatto che stiamo continuando a chiedere alla regione di riordinare l'emergenza urgenza, quindi non tanto la telefonata quanto i meccanismi di emergenza urgenza, abbiamo interi territori montani dove bisogna continuare a lavorarci, garantire che l'ambulanza col medico possa arrivare nei 20 minuti, che si possa garantire sul territorio dei fibrillatori e un presidio sanitario efficiente che sia in grado, chiunque viene colpito e deve essere colpito da qualsiasi forma che attacca la salute e ci deve essere un intervento immediato, ci sia quell'attivazione che prevede la legge e quindi si possa salvare a volte vite umane in territori disagiati, quindi su questo noi ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando con la regione, è importante che nel nuovo piano sanitario si affronti la riorganizzazione dei punti di emergenza territoriale, il ruolo dell'associazione volontariato e la presenza dei medici sul territorio. E oggi a questo mi s'aggancio per dire che sono contento del risultato di una recente ricerca fatta a livello nazionale che ha definito la sanità Toscana al top, efficiente e di qualità, questo era un po' il nostro obiettivo, in questo ci rientra la montagna e il lavoro che stiamo facendo sui presidi ospedalieri con impatti territoriali, sui servizi territoriali, sull'emergenza e urgenza per garantire al cittadino che i bisogni di salute sono monitorati, che i bisogni di salute sono ben definiti e che siamo in grado di intervenire con qualità e sicurezza, questo è uno degli obiettivi primari regionali e dei nuovi territori montani. Vorrei poi aggiungere un'altra delle questioni che ritengo importanti in questi giorni, solo come Flash, la Regione ha distribuito alle province dei soldi per intervenire sulla viabilità, sulla manutenzione della viabilità, noi abbiamo chiesto alle province di individuare fra le priorità degli interventi sulle strade, anche quelle delle strade in montagna, che mi sembra ne abbiano bisogno per garantire la sicurezza ai cittadini nella mobilità, per garantire la sicurezza di trasporto pubblico locale e soprattutto perché con gli ultimi eventi calamitosi di questi ultimi due anni, dove ogni volta che piove fa dei danni abbiamo una situazione delle strade veramente pessima e c'è bisogno di interventi radicali, cominciando da una manutenzione delle situazioni più difficili, quindi mi auguro che nelle province la concertazione con i comuni avvenga e la montagna ha bisogno di intervento. Vorrei finire con due ultimi riferimenti, in questi giorni viene inaugurato il punto ecco fatto a Cavriglia, a Montegonzi, quindi anche lì si apre un altro sportello, entro febbraio che in questi giorni abbiamo aperto 57 sportelli, con due giovani del servizio civile ogni sportello, gli sportelli stanno andando alla grande, la gente va, ha tanti servizi e si sta riducendo il divario dei servizi sui territori, penso che sia una soddisfazione del luncio, una soddisfazione dei territori, dei comuni, dei sindaci, ma soprattutto una soddisfazione della stessa gente che forse per la prima volta con ecco fatto vede tornare in certi territori servizi che da qualche di un altro erano stati tolti in maniera a volta malandrina, senza considerare le esigenze e i disagi che un togliere un servizio, penso le poste o altre cose, potevano fare sul territorio, questo è un buon risultato e ora presto partiremo con un nuovo bando del servizio civile per altri circa 60 sportelli e altri 120 giovani, questa è un'ottima operazione e poi semmai in una puntata prossima parleremo anche di ecco fatto, perché è uno di quei risultati che poi seguirà la bottega della salute, che ci fa onore e che sta veramente risolvendo dei problemi grazie ai giovani e questo penso sia una delle cose più positive che potevamo fare. Vorrei chiudere con l'ultimo tema che è quello della salute, in questi giorni è stato firmato un protocollo in Val di Chiana sul progetto Montagne in Salute che era la lotta, la prevenzione verso i suicidi, violenza donne, minori e alcolismo, quindi verso il disagio vero in montagna, abbiamo incluso anche la Val di Chiana, insieme alla Luigiana, le Due Amiate, il Casentino, le colline metallifere, è stata un'ottima operazione, continua questo progetto, c'è un numero verde contro il disagio, quindi si continua a combattere in montagna e non solo in montagna, delle forme che sono a volte veramente creano problemi, portando addirittura alla morte e lo vorremmo ora spostare sulla provincia di Pistoia, visto gli ultimi eventi di suicidi avvenuti soprattutto nella montagna Pistoiesse, quindi c'è un work in progress e anche questo sarà un tema che affrontiamo nelle prossime puntate. Mi avvicinerei quindi alla chiusura, anche oggi abbiamo trattato vari argomenti, argomenti importanti, vi sollecito di scriverci perché abbiamo bisogno delle vostre segnalazioni e vi auguro un buon fine settimana a tutti e alla prossima puntata, arrivederci da Oreste Giurlani. Grazie a tutti!